Il nostro paese, ecco, mi chiedo, quali sono i momenti, i nuovi interessi, in cui si sa che decide di nascorrere, quali il suo paese non può fare meglio il Stato? Allora, gli entri, chiamati, ma si sa che si può richiedere la possibilità di una che non ha fatto, vabbè, guarda lo Stato, eh, si viene in cazzo per dire troppo la luce, eh, si è così, direttore di passaggio, vabbè, no, si vede bene il teletro, a guaventi, spettacolo guaventi, E basta, lo spiego, eh. E' un po' spiego, eh. Tomas, mi hanno un po' di dare, ce l'abbiamo solo con me.